Sta morto! Morto! Che passa? Tutto bene? E l'ambulanza? Oggi super sfide, sono super emozionato con Sancho Gutierrez come al solito, due tie break a 11, il primo io parto 7 a 0 a 11 e il secondo 0 a 0, ma tu non puoi deboliare il primo 3 gol press. Ok, suerte! Suerte! La va a necessitar! Ok! Però escúchame! Escúchame! Però pronto! Hemos venido a jugar o no ha dejado la pata? No, no! 7 a 1 7 a 2 7 a 2 7 a 2 7 a 3 Emozionato! Estás nervioso? Respira! Nervioso! Calma! No! 7 a 4 7 a 4 Escúchame! Enciende e non puoi restare! Uhhh! E sai che in mezz'ora ne faccio 10 sfide oggi! I massagra! Uhhh! I massagra! I massagra! Uhhh! I massagra! Sono morto. 7-5. Un punto, un punto. 7-6. Ho da una capocciata al vetro. Ma vaffa. 7-5. Come si dice, ho troppo le porte. Eeeh. 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 Ai no llego. Eeeh. Eeeh. Buena. Eeeh. Eeeh. Indifendibile questo. Eeeh. 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 Match point. Match point. Eeeh. 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 1-1. 1-2-1. NON VADA RESE MANCO YO adesso. 3-0. 2-2. 2-3. Sono lago e fuori. E' Manchester City Raffora. Fuori l'ho trovato altra tecnica. Somma cielo fuori si è più lunga. 3-1. Vai. Aaaaaah. guarda che palla, buona buona, 3-2, riga riga, 3-2, sicuro 3-1, si me sta complicando, ese globo, esa dejada, ese globo, ese globo, estoy atras, te aviso te aviso, no tienes compañero, 4-3, andas para atras, ahora chiquita, arriba, toma esa sai che lo estoy relatando, 5-3, sube, andas para atras, era troppo forte, troppo forte anche per sanio, che potenzia eh, 5-4, 5-4, dai Dio, sta morto c'ho la mano di pietra, si mette a giocare a tocchettini con lui, mancano solo le ciabatte go big e 4-7, uuuh, uuh, 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 uuh. Que sono la dif purple, 7-5 no falles il resto che non posso subire a bollare non si credo più quando mi dicono che è una buona vibora per mi estilo è la peor condizione che poteva a mi mi encanta stare qui ormai l'ho capito dove gioca buona 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 Il padel non è molto exigente, non devi muovere molto. È vero, è vero. Un po' di più.